Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi sono finalmente pronto a mostrarvi il frutto del mio lavoro concentrato in queste ultime ore. La mole di informazioni ed immagini sono davvero tante, anche se non sembra, specialmente se ricollichiamo il tutto con un unico filo rosso che ci permette di teorizzare ciò che sarà il futuro. Partiamo però con ciò che effettivamente abbiamo già visto e che ci permette di costruire le basi. Cominciamo da Final Fantasy VII Remake, il progetto iniziale che dal nome dice una cosa ma che dal gameplay sembra dirne un'altra. Non è esattamente così. Abbiamo un inizio molto lineare, è vero, che successivamente porta il giocatore a pensare però fuori dagli schemi, forse un po' troppo, e che mostra delle cose che effettivamente rimandano ad un vero e proprio remake. Ancora oggi nel 2023, purtroppo, molti utenti confondono spesso le parole tra remaster e remake ed è proprio per questo che molti utenti si aspettavano forse un rapporto pari uno a uno tra il vecchio e il nuovo. Cosa che non è e non sarà affatto così. Basti pensare che solo il progetto remake ha occupato tutta la prefazione del titolo originale facendoci uscire a malapena da Midgar, ma che al tempo stesso ci ha permesso di oltrepassare un confine ben più marcato di quello di Midgar, con il fatto che Zack è vivo. Ebbene sì, Zack, il ragazzino diventato uomo e che ha permesso a Cloud di diventare Cloud, qui le virgolette sono d'obbligo, e credo che ci accompagneranno molto durante questo viaggio parte esattamente da qui. Parte tutto da qui. Durante lo svolgimento del progetto remake, come detto prima, abbiamo vissuto una sorta di storia per lo più lineare, molto uniforme e verosimile al titolo originale del 97. Alcune cose, è vero, sono sembrate un po' strane, ma al tempo stesso hanno dato logica a tutto ciò che abbiamo visto. Partiamo dai Numen, coloro che hanno raddrizzato gli eventi e che hanno permesso al gioco di avere una sua continuità. Fino a quando nell'ultimo capitolo qualcosa cambia, ma soprattutto un personaggio cambia. La nostra Earth. Eh sì, lei è quella che sicuramente la più sospetta durante tutto il viaggio. Vede, dice e sa cosa che in teoria neanche lei dovrebbe sapere inizialmente. Fino a quando, grazie alla sua speranza di cambiare il futuro, contrasta il potere dei Numen e permette ai nostri eroi di sconfiggere Sephiroth e cominciare il viaggio verso l'ignoto. Nello stesso momento però qualcosa cambia, non solo nel tempo presente, ma anche nel passato. Difatti Zack, collocato ancora nel periodo di tempo di Crisis Core, riesce a vincere soldati in She-Ra e forse salva Cloud. Dico forse perché in teoria Cloud guarisce da solo, ma non possiamo saperlo e non c'è dato saperlo dato che adesso tutto è nuovo. Cloud potrebbe anche non riprendersi più e rimanere intossicato dalla Mako, permettendo a Zack di prendere il suo posto da ex soldier. Il gruppo di Avalanche combatterà effettivamente per gli stessi valori? Sarà formata dallo stesso organico? La mascotte sappiamo già che è un po' diversa. Quindi qualche cambiamento è probabile in questa... linea temporale? Chiamiamola così per il momento, ok? Ifa conosce e riconosce Zack, se lo ricorda bene, così come ricorda bene il vero Sephiroth. Con qualche domanda potrebbe addirittura ottenere informazioni su Cloud e con l'aiuto di Zack stesso potrebbe effettivamente avere la possibilità di ricongiungersi al suo amico d'infanzia. Anche se Cloud molto probabilmente non avrà modo di interagire con la sua vecchia amica. Ed è qui che potrebbe cominciare in parallelo l'avventura della nuova Avalanche alla volta di Sephiroth, per curare Cloud magari e salvare così la sua vita. Zack ha però ancora una cosa da recuperare a Midgar, ovvero la sua amata Aerys. Per questo probabilmente ritorna al settore 5 e cerca in qualche modo di farsi perdonare per la sua lunga assenza, come è possibile vedere nel finale di Intermission. Dopo innumenevoli prove e giustificazioni improbabili, finalmente trova il coraggio ed apre la porta. Ma cosa si trova davanti? Gente disperata, impaurita, scossa... Ma cosa è più importante? Un collega soldier posto di fronte a lui, che impedisce al giovane eroe di parlare, ma di pensare subito alla sua Aerys. Chi è quel collega? Perché si trova lì? Ma soprattutto come conosceva esattamente quel luogo? Qui le ipotesi e le strade si dividono già. Perché? Da un lato potremmo avere Cloud, guarito e pronto ad aiutare il suo amico. Dall'altro lato potremmo avere Angel, il mentore di Zack, colui che sembrava essere ormai un ricordo, era lì, vivo, di fronte a lui, che giustificherebbe anche la sorpresa iniziale e lo stupore negli occhi di Zack, incredulo a ciò che ha di fronte. Mentre invece, vedendo Cloud, Zack potrebbe o comunque avrebbe permesso di ridere o comunque essere felice. La domanda che adesso sorge spontanea probabilmente è, ma perché proprio loro due? Niente di più legittimo, direi. Per quanto riguarda Cloud, ho voluto utilizzare il termine guarito, tra virgolette, proprio perché non sarà realmente così a mio avviso. Genova potrebbe effettivamente manovrare il suo nuovo burattino e far credere agli altri tutto ciò che vuole. E agire liberamente alle spalle di tutti e diventare lui stesso il nuovo Sephiroth. Angel probabilmente la spiegazione più logica è facile, forse, dato che ha spiato Zack durante tutto il periodo di Crisis Core ed ha avuto modo di conoscere la Chiesa dal settore 5 e soprattutto Eris, per cui ha deciso di aiutare la gente nel luogo in cui lei stessa avrebbe fatto questo. Ma Eris dunque dov'è? Potrebbe tranquillamente essere al palazzo She-Ra, sotto la supervisione di Zeng e sottoposta agli esperimenti di Hojo per quel che sappiamo, specialmente dopo gli avvenimenti visti nel nuovo trailer dove la She-Ra ha soccorso i superstiti dal disastro naturale avvenuto nei settori 0-1 e 2. E potrebbe essere questo il motivo che spingerebbe Zack nuovamente contro la She-Ra, cercando di salvare la sua amata. Ma a proposito di settore 0, a me viene in mente una cosa, forse ai più attenti è venuto anche in mente. Ma il Deep Ground? Eh già, adesso che il settore 0 è distrutto, vedremo mai questa divisione speciale oppure è stata spazzata via anche essa? Per quel che sappiamo effettivamente potrebbe anche essere collocata in un altro settore adesso, però per il momento non c'è dato saperlo. A me interessava soltanto mettervi la pulce nell'orecchio. Cloud nel frattempo potrebbe riunirsi alla nuova Avalanche e finalmente ricongiungersi con la sua vecchia amica, che però potrebbe effettivamente notare un Cloud diverso dal solito. Poi da lì il tutto effettivamente potrebbe anche filar liscio e quasi scontato per un periodo di tempo, fino a quando la visita a Nibelheim potrebbe riaprire il vaso di Pandora, corrompendo definitivamente Cloud che diventerebbe un seguace dell'Unione. Rompendo i legami con i suoi amici e diventando ciò che lui stesso ha combattuto nella storia originale. I nostri eroi del remake nel frattempo giungono a Calm ed ascoltano il racconto di Cloud, che però questa volta insospettiscono Tifa. Dal secondo trailer vediamo come sia lei stessa a porsi delle domande più che legittime, ma rivolte verso chi? Cloud o Sephiroth? Confessa anche ad Eris la sua inquietitudine e le chiede come una sorta di conforto personale dove sia stato effettivamente Cloud per tutto questo tempo. Ma soprattutto sembra abbastanza convinta del fatto che lui a Nibelheim cinque anni prima non ci fosse mai stato. Ed è in quel preciso momento che Cloud ha una sorta di blackout, quasi come se avesse un'interferenza elettromagnetica, che probabilmente è stata indotta da Genova Sephiroth. Diventato più burattinaio e subdolo rispetto al capitolo originale, che muovendo i fili sta facendo credere a Cloud stesso che quella Tifa non sia la sua amica di infanzia. Ma perché Sephiroth farebbe una cosa simile? Beh, la risposta è molto semplice. Tifa e i suoi amici sono la forza di Cloud. È grazie a Tifa che Cloud ripristina la sua memoria e ricompone i pezzi della sua coscienza. Eliminando quel legame Cloud diventerebbe debole e probabilmente sarà costretto ad accettare l'aiuto offerto da Sephiroth ai confini del mondo. L'aiuto del vero Sephiroth, che come l'Aris del remake sembra già sapere cosa stia per succedere e conoscerebbe già il suo destino. Avendone la possibilità, è ovvio, che anche lui lo riscriverebbe, no? Il riferimento della morte di Tifa inoltre non è la prima volta che lo vediamo. Anche nel primo trailer abbiamo lei stessa, che sembra quasi indispettita dal comportamento di Cloud e lo accusa proprio di pensare che lei possa essere un'impostora e che sia effettivamente morta. Cosa che si rivede e si sente nel secondo trailer dove è addirittura Sephiroth che installa il dubbio nel nostro protagonista, dicendo chiaramente tu lo sai che io l'ho uccisa, quindi chi è lei? Una frase che inizialmente ti fa pensare ad Eris, quasi di getto, istintivamente. D'altronde è lei che muore veramente nel capitolo originale. È la versione giapponese che smentisce tutto ciò facendo esplicito riferimento al nome di Tifa. Questa volta il cambio di direzione sembra più pilotato, in maniera intelligente e viscita allo stesso tempo, che per quanto riguarda il resto ovviamente non possiamo speculare troppo. L'unica cosa su cui ci possiamo soffermare effettivamente sono i due dischi, che potrebbero contenere un altro mistero. Un disco potrebbe ripercorrere effettivamente la storia di Cloud e l'altro forse quella di Zack. Magari più lineare e diretta rispetto a quella che si è vista nel remake? Oppure davvero ci troveremo ad esplorare zone infinitamente distese e prolisse da riempire addirittura due dischi? Non credo sia questa la strada, o per meglio dire il caso, ma forse adesso più che mai potremmo davvero avere due strade, due protagonisti, due linee temporali e molto probabilmente due finali. Detto ciò spero che questa mia teoria e questo mio video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa pensate di queste idee e di quello che effettivamente potrebbe essere il futuro. Ma cosa più importante ragazzi, siate felici, perché questo è davvero un bel momento per essere fan della serie di Final Fantasy. Alla prossima!